Il ruolo del provveditore è un ruolo pieno di nuova responsabilità per un cambiamento che va gestito e non subito. Come si può fare? Innanzitutto la cosa importante da sottolineare è che il provveditore e comunque tutti i collaboratori che lavorano all'interno delle aziende sanitarie sono ruoli strategici importanti e soprattutto lo abbiamo visto anche in relazione al Covid, alla pandemia e a quanto queste figure professionali hanno fatto per portare tutto quello che era necessario per affrontare la pandemia. Quindi un grazie speciale a tutti coloro che hanno svolto questo lavoro. Naturalmente c'è bisogno sempre di formazione, c'è bisogno di crescere l'autostima soprattutto perché ha un ruolo di grandissima responsabilità e quindi noi in questo convegno vogliamo approfondire, abbiamo approfondito anche il tema in merito a quello che è la stima di sé e soprattutto a fare una riflessione personale sul come si lavora all'interno delle aziende, il lavoro di squadra, la persona al centro di questo lavoro che è il paziente con un bisogno di salute. Quindi questo è il nostro ruolo ed è un ruolo davvero grande e fondamentale per la sanità pubblica. Grazie.